a giudicare dalla faccia di marco quanto pensate che potesse aspettarsi quello che è successo dopo il mio video il piantagrano della peggior specie qualcuno mi ha detto giustamente va bene essere il piantagrano di se stesso nel senso i problemi che uno si crea eccetera ma ci sono alcuni problemi che puoi prevedere che sono reali e grossi a me viene da dire sei sicuro di poter avere la presunzione di prevedere qualsiasi tipo di problema tu possa avere in quello che vuoi fare potevi prevedere il covid la crisi del 2008 marco poteva prevedere che io entrasse con un ascia in ufficio e distruggessi una stampante assolutamente no e ci sono altri infiniti problemi che uno potrebbe prevedere ma non prevede quindi è tua la decisione se sprecare tempo a trovare scuse che ti possono fermare possono fermare il tuo tragitto oppure semplicemente andare avanti e quando i problemi arriveranno e arriveranno li risolvi o comunque in quel momento cerchi di fare qualcosa per farla andare meglio sprechi un sacco di tempo a prevedere dei problemi che poi magari non hai e quindi Scusate se mi apri il video volevo andare avanti e appena ho visto la faccia adesso mi sono bloccato